Dopo il furto messo a segno nella scuola San Tommaso d'Aquino di Salerno, lo scorso mese di marzo è stato fermato un ragazzo di 17 anni, sarebbe uno dei presunti autori del raid ai danni dell'istituto scolastico. I carabinieri della stazione di Salerno Fratte hanno eseguito una misura cautelare del collocamento in comunità emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Salerno nei confronti del 17enne salernitano. I fatti risalgono tra il 19 ed il 23 marzo, quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i gnoti penetrarono nel plesso Don Peppe Diana della San Tommaso d'Aquino, rompendo le finestre e forzando un lucchetto. Nel complesso i ladri asportarono impropriamente 24 oggetti, fra cui stampanti, pc, monitor ed hard disk. Sul fatto di cronaca hanno da subito indagato i carabinieri. Gli inquirenti hanno rinvenuto impronte, papillari e palmari, che da un attento raffronto sono state ricollegate al 17enne che è stato poi arrestato. In totale sono state riscontrate 28 corrispondenze, impronte ricollegate all'evento e non casuali, vista l'assenza della scuola del ragazzo dal 2017. L'evento, unito alla sua condotta già noto alle forze di polizia, ha condotto all'emissione della misura cautelare. Il minore è stato pertanto arrestato e collocato in una comunità di campagna.